Civil Week 2024 siamo a Buscate con Chiara Galli, presidente dell'associazione Volare Insieme, che per la Civil Week, e non solo perché questo lavoro lo fai tutto l'anno, imposta un lavoro in rete con tutte le realtà del territorio. Che cosa proponete per la Civil Week? Per la Civil Week quest'anno, visto la presentazione che era diciamo coerente con quello che è stato un lavoro di due anni con agenzie del territorio, che sono le scuole elementari di Buscate, i servizi del territorio, i servizi di persone disabili, quindi sono state coinvolte tutte le realtà territoriali, è stato un percorso di comunità, quindi a chi ha coinvolto tutte le varie agenzie e con una grande partecipazione anche dal punto di vista territoriale. Questo era proprio lo scopo, penso, clou della proposta di quest'anno. Quindi una cittadinanza attiva in cui i volontari hanno fatto una parte davvero importante sulla loro spendere questa umanità nella relazione con tante persone, con tanti ragazzi e i bambini hanno lavorato con una partecipazione davvero esemplare su quello che è stata la prima proposta dell'anno 22-23. Ci è stata chiesta una prosecuzione su quello che era il lavoro da fare con l'arte e condividerla con tutti e adesso siamo al secondo anno e abbiamo fatto una sintesi di presentazione proprio che coincide con la bellezza del genere condivisa. E quali sono i valori che voi state mettendo in campo, vieni pure, Chiara, seguimi pure, i valori che state mettendo in campo con le pratiche che ci stavi raccontando e che sono inerenti con la Costituzione che dà il titolo all'edizione 2024. Assolutamente, è quello del percorso di coinvolgimento di più attori che hanno diritto tutti di avere voce e chi non può farlo personalmente diamo un contributo di partecipazione a quello che è il loro sentire. Quindi un percorso di inclusione reale fatto sul concreto e non solo dichiarato. Questo ha avuto una meravigliosa restituzione a noi che l'abbiamo organizzato ma penso che tutte le persone che hanno contribuito a questo risultato siano state molto partecipi nel dare il meglio per avere quello che sarà il futuro spero di una società che è attenta a tutti e attente nello stesso modo. Quindi non c'è un prima e un dopo ma ci dovrebbe essere un futuro in questa direzione. Grazie Chiara, buon lavoro. Io spero di essere stata chiara. Utilissima Chiara e diciamo a tutti buona Civil Week. Buona Civil Week.